Criminalità in azione la notte scorsa a Fiumefreddo, un commando di almeno 4 persone usando un'auto come ariete ha messo in pratica la collaudata tecnica della spaccata, questa volta ai danni del tabacchi ubicato nella centralissima via Umberto. I movimenti, probabilmente 4 persone, tutte con il volto coperto da cappucci, a bordo di un'autovettura probabilmente rubata, hanno sfondato la saracinesca dell'esercizio commerciale. Sarebbe stata asportata una quantità imprecisata di stecche di sigarette ed altri prodotti in vendita nel tabacchino di Fiumefreddo. In corso le indagini condotte dai carabini della compagnia di Giarra e della locale stazione, che hanno acquisito già le immagini registrate da alcune telecamere della zona, comprese quelle dell'esercizio commerciale, nell'intento di ricostruire con esattezza la dinamica dell'azione criminale.